la 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 la. Che notifiche di attivare? Ma che vuoi? Ma non pievare le balle per favore. Dai, quando decidi di partire Twitch, sarai un piacere. adeguata sempre più acuto tu ci puoi mettere a capire che sono andato in live oh carino questo ah però penso che è lunga da inserire l'immagino almeno non vedremo se è automatico o meglio mi piacere che dicesse che sono andato in live ok bravo nel momento in cui l'ho toccato perfetto ci sono ci sono ci sono e bene allora per aprire la settimana faccio comunque sempre il caro buon vecchio Isaac ma domani mi metto a scrivere perché è finito la seconda season di Miraculous non mi ha dato particolarmente nulla anche se ho capito una cosa molto importante penso che chiunque abbia visto possa averlo comunque intuito non mi servirà comunque e domani parto con lo scrivere una fanfiction di Miraculous che ho in mente anche quella da un po' di tempo dopodichè non ho più in mente nulla da tempo quindi non so bene però adesso si va avanti con Isaac e cosa devo fare? con Blue Baby ho fatto qualsiasi cosa Blue Baby che una volta era uno di quelli difficili una volta tanto tempo fa bene intanto io devo sbloccare The Lost e The Lost e e Keeper vabbè Keeper facciamo stare oh mamma mia non mi ricordo però perché non mi ricordo mai qual è il negativo e qual è l'altro ma con lui in realtà quello quella è la normale e quella è la negativa va bene quindi devo andare da Mega Satana e andiamo da Mega Satana con Isaac che ora ha il D6 guarda che bello il D6 il Curso of the Labyrinth e ora è il Curso of the Labyrinth che crea il il Pionic Cell mi sa quindi quindi tu hai un aeroni qua mai fare a prendere la velocità Last speriamo che non riesce il virus più grati beh mai fa un tir un uomo l'altro è quello qua così vediamo subito se l'andorizzare o meno quello che spinge i proiettili ingula sua amma o la mamma di Isaac o la mamma di Isaac comunque o la di 20 tolgo dalla pool e cambio subito anzi aspetta no vieni qua iera 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 che potrei già utilizzare volendo ok prendo la mia città qua no prendo tutto ma non 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 iero oh mamma la mia città qua la mia città qua quanta vita poi quello rosso quanta vita quello rosso di mortacci te sono solo lunghi noi ieri da fare fuori perché non fanno danno se non sei the lost il piano ninja addosso quello potrà fare giusto danno so chiave non dovevo andare ma non importa non ne vale un cavolo la pena iera me lo tengo allora starda tu bastardi tutti bastardi qua abbiamo a te che sei una passia che non ricordo neanche cosa fai dai un soul art è l'unica cosa che so mezzo cuore wow già il fatto che dobbino qualcosa è impensabile impossibile oltre ogni logica che buccio di buccio dai faccio qualcosa no bomba e e te devi da morire grazie grazie molte ok va bene tutto penisselle quanto vuoi non mi pare che mettere stanze inutili come queste che sto esplorando perché mi diverto a esplorare cioè qua potrà sermi giusto perché sono stupido e potrò termine per dopo per ricaricare l'attivo non so ne che se ne avrebbero bastate eh guarda facciameli così quando è gonfio c'ho sempre la prova che scoppia anche dentro a sparargli puttana tu puttana ma un me meno the empress eh qua in su te infested oh nei 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 nulla tanto veloce tardo troppo veloce troppo Ok, boss, già arrivi. Ah, un troppo santo cielo, tu! Odiosissimo pezzo di fango schifoso morissi più in fretta di quanto già non fai. E non sei mica molto in fretta tu in realtà, quindi che cazzo dice? Cazzo. Questo posto non lo abbia affrontato a sto modo. Questo non va appunto, non va affrontato a sto modo chi in faccia in realtà. Puttanaeva a me. Mamma mia. Boss di merda per il primo piano. Dopo ci scomento che c'è la Rugman. O il culo che c'ho. Bastardo in cuore, veramente. Ma è Marou. L'accetto invece. Dovete morire. Dovete morire. Buon'arte a me piacciono come meccanica. Sono dei solari con tre potenziali che possono finire mai attento. Se sei attento, piacerebbe. Perché sono un container di tre colpi. Sono un bel power up, i buon'arte. Infatti, The Forgotten non è che ha soltanto sei cuori. Noi ne ha dodici. No, ne ha... Un diciotto, l'ulto. Puoi subire diciotto colpi. Sono tanti. Non puoi recuperare vita in altro modo. Però sono diciotto colpi che puoi subire. L'alto, il coletto no. Dio, stantissimo, io sono uno stupido. Mi sono fatto colpire da monstro. Dal monstro cesso, tra l'altro. Mi sono fatto colpire. Ok, adesso sì. E questi... Vediamo. Tu mi fai schifo. Tu mi fai schifo, tu mi piaci. Tu ti apprezzo. Ah, già. Mi devi mandare tutto, tu. Stavo facendo... No. Culo, tu. Non iniziamo, eh. Un secondo in giro è esplorare per prendere tutti i cuori, i mezzi cuori che ho trovato. Per questo... Bravo, tu. Bravo. E direi che ne posso anche andare. Via. Catacombs XL. Eh? Ostia, ostia, ostia. Devi scoppiare. Ma anche malamenta, 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 no. Che tu morirai. Dai. Bravo. Bombe, grazie al trinket. Scusi lei. No, eh, ma non ti mettere nell'angolino, maledetto. Inizio si, bravo. Oh, mi dà... Ehi. Che ciuolo. E no. Non mi ha dato niente Però è sempre meglio fare così Chemical peel Chemical peel Devi Avere più range Nella vita Di tutti i giorni Questo resta qua Guardate Tre pezzi di merda Tutti uniti Tutto lo stesso tetto Fortuna che ho sette di danno Ho sette di danno Minchia Ho andato più in XL Non me ne ho neanche accorto che ho andato più in XL Deve fa ancora E tu pure Bravissima Mi capito tutto Tu mi dà niente? No Ok Allora Questo vale la pena fare Questo Poi Non ora Sticky suck Sì 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 Io ho capito cosa volevo dire Spero anche voi Ma a me non dispiace troppo Comunque un minion che non fa male Non è un Bob's Brain Quando hai poca vita È l'unica fonte di danno Che puttana muori Fa quello anche Tua madre Morta Ok Devi prendere quello Dammi qua quello che mi devi dare Oh bravo tu Bravo piccolino Però basta che ne XL Per carità Neanche dire che si fa più in fretta Stronzo invisibile Rallentato ma sempre invisibile E il Cracket Dice No non mi piace il Cracket Dice Troppa Magari se lo ho messo bene Mi ammazza il Cracket Dice Quello ho fatto da prendere Bravo Se ci vuoi poterlo dai dopo Non avevo buona idea Neanche fargli Trasportare con tutto D'una stanza all'altra In realtà Perché se ti spavano il ragno nevo Te lo spavano sotto il culo Di solito Allora Di cercare subito Il perfetto C'è un vero Io santissimo Le folle Santissimi Lumi Santissimi Non so come Mi sta beccando ancora Bastardo in culo Questo Te lo tieni Anche se in realtà Lucky Penny Lucky Penny Lucky Penny Lucky Penny Va a fanculo Lucky Penny L'ho preso anche per sbaglio Sì Non so che vuole lasciare il coltello Wow 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 di nuovo Ma porca Puttana Porca Allora Questa si richiude E non voglio C'è No Non si è richiusa Non si è richiusa Non si è richiusa Devo andare a prendere La batteria Non tu La batteria Devo andare a prendere Tanto ce l'ho Questa possibilità E basta Perché figuriamoci Cioè Già che non si è chiusa Una volta È un miracolo Oh yeah Va a fan cuore Non toccarmi Il crack E dice Voglio prendere Cose Con il coltello Ma non sono De forgotten Tu Tu si Bravo Bravo E adesso Finiamo di sfruttare il piano Va là Va là Va E La Va là Va là Va là Va là Va là Questa si fa Forever Beh Vai andare a prendere Quello Dammi un solato Bravo Bravissimo Carissimo Bellissimo Bellissimo Prenditi una Bomba Dubbo Tu Ace of clubs No Ok Vediamo stavolta Monete Monete Ciao Ciao Funky Tutto bene Va tutto bene Sì Che ti porta qui Buce di Buce di culo Buce di culo Dai tu Ti sei piaciuto Ehi Ancora? Oh la vacca puttana non l'avevo visto che è invisibile! No nel fungo! Sapevo che era avvelenato! Che... Tu muore? Ok... Eeeeee no! Che ti porta qui? Funky? 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 Non so perchè avevo letto Funky. Oddio non mi ricordo questo cosa fa. Però lo prendo. Ah Creepshot! Ok. Ok. Sì. No questo non è dei prodotti. Ce l'ho sbloccato. Ma... Oh via. Sì comunque ci ho messo un po'. Ah bene. Dove è proprio che... Immaginavo piacesse. Quanta... Non è che non sono quelli esplosivi. Guardano i funghi. Questa è un po' di merda. Questa è un po' di merda. Questa è un po' di merda. Un'altra? Ma cosa fanno... Beh... Cioè il finale ormai si sa. In teoria. Cioè il finale dovrebbe essere quello di... Mh... Di delirium. E quello vabbè. Cosa fanno? Aggiungono boss sicuro? Aggiungono nuove modalità? Perché non... Non seguo molto... Non seguo molto... Non seguo molto... Sì Twitch. Ciao. Non seguo molto Twitter. Ehm... O... Dov'è che lo faceva anche? L'avevo visto io. Un Tumblr. Qualcosa su Tumblr l'avevo visto. Comunque non seguo molto quindi non so bene cosa... Mettono delle esplosioni. Voglio quella a fare. Non posso. Ah... Ok. Vabbè. Sono sempre ben accetti. C'è più varietà. A me non dispiace quando mettono cose. C'è più randomicità. C'è più varietà. Che maledetto! Basta che non siano... Tutti... Come... Delirium. Ecco. Basta che non siano tutti come Delirium. E va tutto bene. E devi da morire. Dai! No! No! No, speriamo di no! Cavolo! Già Delirium lo odio! Per questo sento qualcosa di... Ecco. Ho potuto usare i gear. Non voglio un boss più fame di Delirium. Già immagino! Ho paura di quando dovrò farlo con The Lost. Perché quando... Allora... Questo non è il primo Isaac che faccio. Il mio Isaac è quasi completo. Neanche completo direi la verità. Ma quello che ho fatto più cose è su Play 4. Lì! Delirium! L'ho fatto dalla tattica del... Gnawedleaf... E tanti Minion! Sono rimasto fermo. Sono andato a mangiare. Non mi ricordo neanche cosa sono andato a fare. Però tutto l'altro era morto. O... Forse lo spero ancora un po' dopo. Comunque... L'idea è quella. E... Non voglio il B2Play. E non voglio l'andromizzare qui perché... Togliamolo dal... Dallo stupo. Oh! Ma ciao! Eh! Togliamolo perché... Non mi piace che spara coltelli. Ehm... Ta 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 ta... C'è anche una cosa di qua? Si! Mamma mia! C'è una batteria qui tra l'altro. Vieni qua, bella! Tanto... Vabbè... Aspetti parlando... Che si! Funzioni con il... Coltello? Non ne ho idea. Crunchy? Non penso funzioni. Proprio da tear stop. O forse funziona quando becco un nemico. Eh... Sì... Tommi... Cranci... Gappi... Vabbè anche poi c'è un'altra testa. Ma queste scoppiano! Che bello fare il coltello contro questi bastard! Ho scoperto come funziona Flaming Tears... Con... Il coltello. Spesso la mi ve lo carichi. Quindi se vado avanti... A tenerlo sparato... Me lo becco prima un po' il fuoco. Però non posso caricare l'infinito perché sennò... No. Ma allora perché prima me lo mandavo a fanculo? Vabbè... Sarà perché mi muovo in avanti. Eh... No. Ok. Spero mettere le trasformazioni e le immagini che vedono. No. Ok. Spero mettere le trasformazioni e le immagini che vedono. Perché adesso hai la trasformazione adulto. In mamma... E la è morta. Prendi la dead ski... Prendi... Tutti magari... Le cose che vuoi fare con papà... Dead lost coin... Un... Un... Un thing dead lost coin... Comunque tutte le... Le cose che... Eh... Niente... La vede in faccia. Sì... Non tutte... Ma sì... Più che altro hanno informazioni sul... Perché Isaac è così disturbato. Cioè... Penso che sia ancora abbastanza da stronzi quella della... Della ragazza. Cioè... Tutte quelle dei... Con gli altri bambini sono un po' da stronzi. Ma c'è solo tante che possono mettere belle Tipo anche una trasformazione con i semi zodiacali Mi ha sempre fatto stanochi con i semi zodiacali Non abbiano Non abbiano una trasformazione Sono così Facili Aspetta al negozio sono già entrato Sì non c'era nulla che mi interessasse Ma ci vado lo stesso Perché posso randomizzare l'item No non di qua Perché sono andato di qua Quello è il bone art Per adesso ho visto solo due modi di ottenerlo Praticamente c'è un oggetto che si chiama Vabbè non mi ricordo come si chiama l'oggetto Ti dà il bone art che sarebbe tipo un soul art o un black art te lo conta il gioco Infatti non sarebbe fra i patti Non era qua Praticamente l'oggetto ti dà un bone art fisso a te e ti fa spawnare tre cuori rossi Non meno bene sempre spawnati tre Chaos che bello che è Sempre tre cuori rossi mi ha spawnato E Praticamente funziona che Il cuore Quello lì Quel cuore rosso Adesso non so se si vede il mouse Questo cuore rosso qua Conta come tre danni Questi contano come due Questo Spaccano il cuore Prima il cuore rosso E poi La corazza E si può ricaricare Questo sarebbe più che altro A The Forgotten Manca tanti personaggi Perché così Non ho comprato il bosco E paura Ok Non serve più E Sì è tipo No in realtà è il gioco che lo conta come un eternal art Perché è ricaricabile con i cuori Mamma mia Antigravity Come cavolo funziona Sempre la scienza vai Non funziona Amato solo il mino 2 Sì Adesso non posso farlo vedere Perché c'ero molto indietro Sì per la scienza Me l'hanno attaccato Non mi ricordo chi lo diceva Ma me l'hanno attaccato qualcuno Che lo diceva E E Poi c'ho questo Che mi prende tutti i cuori Vabbè E' utile Allora Perché The Forgotten E' un bastardo E Cioè Non è che è un bastardo E' una buona cosa Che E' una cosa originale Non sarebbe una bella cosa Che può scambiarsi con Il corpo e l'anima Mannaggia Mannaggia Sono di 8 blu comunque Però in due Vaffanculo a me In due The Body and the Soul Hanno Hanno comunque Avrebbero Poco Perché se lo dividono Uno si prende i black art Vaffanculo Questa stanza Stanza del Beh Questo è un'altra Ma è complicato Da vedere Perché appena lo prendi in mano C'è le combinazioni Immaginazioni Mamma mia Quanto a cui ho fatto male Va bene Prima che perda tutto Vado a fare il boss No E' a mamma Non mi sono neanche accorto Di un imbecille Vabbè Vabbè Non importa E' manco Sbloccato Satana Qual era la Polaroid E qual era il negativo Cazzo Era questa la Polaroid Devo prendere il negativo Mannaggia Eeeh Niente Eeeh Che cosa dovrei fare Vabbè Eeeh Non devo fare niente Da Da sta parte qua Vabbè Vado a fare Satana Almeno Non mi ricordo Se l'ho fatto con lui o no Tanto cielo Magari no Guarda Adesso faccio una cosa Tanto Eh Ho preso il negativo Perché non sapevo Quale oggetto era Questa L'ha chiuso Perché con lui ho fatto Ho già fatto Satana Mega Satana Sì Satana Non farei Mega Satana Ma non ci arriverei Eeeh Ho fatto sia Satana che No ho fatto sia Isaac che il Blue Baby Dovei fare Isaac Qua Eh lo so Vabbè Tatata Tatata Tata Ah beh Amme Grazie a vedere lui Quale cosa devo fare Tra l'altro Tutto No con lui ho fatto Fatto Dele Amber Sì, ed è lamb Quindi dovrei fare le rush Dovrei fare tante cose Questo è un motivo per poi facerli nei primi piani Lui Vieni Lui inoltre che impari a scambiarti bene Lo fai veloce Perché arriva allora Nei primi piani è potentissimo lui Sì, allora non mi ricordo come si blocca il missing poster Devo fare una cosa con Isaac probabilmente Mi ricordo quasi, mannaggia lui No, 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 no E muori E la trova il bomba ovviamente Allora dicevo comunque Nei primi piani, e porca miseria Nei primi piani lui è fortissimo Ti shotta il boss, ti shotta i nemici, ti shotta tutto Quando vai avanti, visto che i nemici che ti avvicino esplodono Fanno scatti che non ti aspetti Eh, meglio dell'altro istinto. Ciao, tu. Mai fidarsi, è proprio istinto. Ecco. Orca. Sì, sì. Il problema è che quando esci, perché come dicevo, hanno poca vita loro. Guarda. Rischio solo perché potrebbe uscire la secret room. No. Ma magari c'è la super secret dall'altra parte. Eh, va bene. Arandellata, arandellata. Pajamas. Ecco. Non faceva niente. Eh, adesso lui ha tanta vita. Lui adesso ha dodici club da subire e lui ne ha sei. Sì, sei. Non so, cazzo. Cazzate. Ho recuperato vita perché pagiama sfulla. Ecco. Chiavi adesso sarebbero molto ben accendute. Arandellata, è una cosa che piace un sacco che, vabbè, colui non si vede perché ho preso solo pigiama per adesso, ma a livello grafico quello che prendi con uno lo prendi con l'altro. Dattemi una chiave qua per favore. No. Poi dovrò ritrovare la stanza. No, c'è un trucco lì. Allora, praticamente se muore lo... Allora, se vieni colpito sì. Se vieni colpito sì. Se tu fai usi lo spirito per fare i patti, tipo con lo spirito, prendi un patto e sprechi tutti i cuori, ma cambia velocemente The Forgotten, non puoi più cambiare perché se non muore ma puoi continuare a giocare con lui. Non puoi fare al contrario perché semplicemente lui non può andare nelle altre stanze, a meno che non c'è molto vicino e quindi perderesti sicuro perché non ti puoi muovere. Però se perdi con lo spirito in quel... con i patti... eh... se sei veloce a cambiare non perdi. Se no perdi sia che muore una sia che muore l'altra. Per questo sono complicati da usare. Perché sono legati anche in quello. L'annaggia tu, mannaggia! Adesso ci sono i patti e ti faccio vedere cosa intendo. Intendo! Intendo! Eh... Perché mi sono addentrato lì? Ho avuto il panico! Questa è una chiave anche, dai! Guarda che bello! Che bello shottare loro! Schifosi maledetti morite! Siete stantano vedendo al primo piano e tanta roba! Eh... Devo se forse sparcare qua! Ma... Le maschere in generale o il boss? No, le maschere... Guarda, ci metti... Cioè, più oltre di inseguire una tragedia... Ehi, ma te mi si stacca... Calcazzo! Cioè, più oltre di un... A quel punto ti cambi! Perché quelli che sono difficili da sconfiggere è meglio cambiarsi! Eh... Una chiave... Però... Fottiti! Fottiti! Ha ha! Stavo pensando non una bomba ma sono dei forgotten! Tac! Ah, tra l'altro sono dei forgotten! No! Secondo i bomb sarà chi sono fottuto! Ha ha! Mamma mia! Che culo! Lo sapevo che mi voleva inculare! Che culo! Non accadeva mai più va bene! Ecco, questo! Questo qui soprattutto è meglio sparare con lui! Tanto la cosa utile del corpo è che ti fa da scudo e con un minion che ti blocca tutti i colpi! Quindi, eh... Contro esempio The Lamb tu ti metti magari così e i colpi che ti sparano non li subisci così! Perché se si spara colpi così vabbè è un'altra cosa! Da nemici immobili soprattutto da gurdi! Tu ti metti in questo modo da gurdi non subisci più danno! Champion? No! E muori! E lui non può avere solo art però può avere un art che buttali via! Va bene! E' stato attento a fare questo soprattutto perché se tu ti pensi beh vuole il solo art di prendere da dei debodi no! Ti prendi buon art se lo usi con lui! Quello che dicevo prima tra l'altro lui così ha gli occhi bianchi e c'è anche l'anima gli occhi bianchi perché sono così grosso il fungo? Boh non devo più fare nulla me ne vado Bianchi Ecco, già questi sono i punti già in cui non vuoi più usare dei body. Lo so. Eh, range down. Vabbè. Eh, fottacati al piatto. Ma perché due stanze con le... Voglio delle chiavi. Tante chiavi. Mannaggia, la curvata all'ultimo secondo. Eh, per dire il buon ar... No, c'ho il mezzo cuore là. Perché il punto è che lui può arrivare ad avviare così e sopravvivere ancora con il mezzo cuore. E poi devi prima prenderti qualcosa perché perdere il cuore con lui è come perdere con il Blue Baby. Col ca... Peno male che è. Devi. Da. Muori. Oh, che caeva. Bombsarky. Guarda, sono molto contento di Bombsarky in questo momento. Una cosa che... Un problema con The Forgotten... ...è che teori ti ricognisce i tasti perché tu... Il tasto per cambiare, almeno sul pad, sul tastiera non lo so, è quello sotto quello per usare carte e pillole. E anche quello per droppare le cose che hai. Infatti, penso sia quello che sul tastiera usi per droppare le pillole o le carte di Trinket che non vuoi. Eh, sì. E muo... Uh... E' vero questo coso. Però... E soprattutto non puoi colpire il Vingro, non puoi tornare indietro. Ma come il coltello? Soprattutto che appunto il coltello fa un sacco più danno e te... E c'è chi ti... Allora, il patch va bene. E c'è tu. Sì, questi dicono che QT è lo colpo di tre volte, il Brimstone 7. Eh, per esempio, dico... Ah, non l'ho mai provato in realtà come mano in combinazione. Vabbè. Tipo. Questa non la conoscevo come cosa, tipo. Che figata! Scusa, era così? Che figo! Ma è un... È tipo un Brimstone... E lui, ovviamente, ha sparato solo il laser. No, vabbè! Ah, però... Però quello! Però quello! Oh... Quanto sei bello, tu! Anche tu sei carino in realtà. Ma è il Vingli Spi... Oh! In quello no. Non potrei avere più c'è più un conto. Tac! Eh, Red Patch, sì. Mi colpiranno tante volte. No! Scusate... Due palenghi! No, vabbè, adesso... Grazie. È potentissimo! Scusate... Scusate... Le... Non... Troppo vicino. Piero... Non tanto questo, ma il laserone lì... L'è bello. Camouflage no, grazie. No? Oh, sì! Oh, posso colpire anche i nemici che esplodono. Ok. Prese entrambe. Potrei finire di esplorare, ma intanto la lascio ormai. Eh... Potrei provarci. Tipo Chubb non lo vuoi tanto affrontare con lui, per esempio. Opa, aspetta, però... Sì. Un nemico lineare... Oh... Dopo. Guarda quanti danni becca lui! Guarda quanti danni becca questo bastardo che sa 18 miliardi di vita! Vabbè. C'è sempre i rischi di diventare Spoon, no? Che bello, però, mi ha dato... Mi ha dato un sacco di roba bella, in realtà. Ma ha bastato... No, ma ha bastato il tiro di lei, vero? Vabbè. Eh, andrò avanti così. Ok. Non devo esplorare... No. Andiamo via. Qua. Sto cazzo. Ecco, tra l'altro succede questo quando vuoi doppare un oggetto. Non penso di essere mai andato così lontano... Cioè, non ho avanti da poche di partite. Ma non sono mai andato così lontano, continuando a usare lui. Quanto non mi ha preso come. Non mi ha preso, peraltro. Ovviamente, a questo punto del... Del gioco ho già cominciato ad usare... De lo... Quello. Ho cominciato ad usare l'anima. Mamma! Non lo userò le pillole, ma dopo. Se sono mali, se sono morto. Non teme di s... No? Non si torna indietro contro mamma. Perché bello diventico sempre? Oh! Wow! Funziona di schifo! Però! Se questo funziona così, il cappello d'asino come funziona? Perché il cappello d'asino spara in entrambe le direzioni all'universo momento. Allarga... Semplicemente. Non possiamo stare. Mannaggia! Mannaggia! Oh, per la carità! Tu no! Tu sì! Tu sono il muore alle esplosioni! Quello non lo so, non lo so, non lo so, vero? Ehm... Ci arrivi? Ci arrivi? Bravissimo! Vabbè! Olla! Quanto! Di ragni schifosi! Ecco, gli altri motivi per cui non è molto buono usare lui di continuo sono i nemici che lasciano scie. Per cui devi inser... Weirdly. L'ho smezzato! L'ho smezzato! Ho 16 di danno... Ho 16 di danno... Ho 18 di danno, quasi! Sare dei keeper, però cazzo! Ehm... Prenditi quello di voi. Questo è un bombsarky, no? Orange down! Te lo tieni, orange down! Dove c'è? Oh! Ah, tra l'altro lui parte con la crema spettale, giusto? Perché è un pochino scarso. E... Vieni qui! Ah... Quello non mi ricordo mai cosa fa come... Che... Non mi lamento, ma stanno facendo un po' di... All the door, no. Stanno facendo un po' fatica a colp... Ah... Eh... Ah... 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 Eh, aspetta, tu... Ci sei messo un po' di salita. E vieni qui! Pertro! Pertro! Non è male, Pertro! Il culo di legno è... Te lo faccio vedere. Lo prendo una volta per una stanza. In pratica... Ti tiene... La stanza... Dove dove sei arrivato... Aperto. Hold the door. Ti tiene questa qua aperta. Cioè io posso entrare e uscire quanto voglio. Solo da quella di cui sei entrato, però. Non so cosa fa il pannolino. Quello no. Diciamo che... È utile se c'è... Una stanza che non ti vuoi fare. Ma di solito io me le faccio anche quelle inutili. Se ho fatto tutto... Cioè più che altro... Non sai mai se è una stanza inutile o meno. Magari ti troppa qualcosa di buono. Quindi non mi interessa molto tornare indietro. Questa... Uno volendo se la può non fare con... Hold the door. Anche perché... I scheletri esplosivi sono tra i nemici più stronzi. Ma sono inutile le esplosioni. E ho avuto una moneta. Che non butto via. Ehm... C'era qualcosa che dovevo prendere. Indietro. Perché ho perso semplicemente. Non mi ricordo se c'era... Perchè sto tornando indietro? Ah per quello. Ehm... Sì ne vale la pena. Ne vale la pena sì. Per quanto per provare? Oh! Buongiorno. Tu? E prendo il mezzo cuore. Eh? È un po' macchinoso. Più che di... Complicato da ricordarsi. Perchè devi ricordarti. Devo entrare nella stanza... Nella Cursed Room. Con... Eh... L'anima. Poi devo uscire con lui. Perchè c'è un mezzo cuore. Me lo riprendo. E... Non continuo. Muori. Triple shot. Scusa? Triple shot. Triple shot. Non... Non spar... Vabbè. È potente. Ma non mi fa sparare. Io sto premendo. Sto premendo per attaccare. Non mi... Sparo un colpo una volta ogni morte. Ok. La Eva. Eh... Quello non le posso prendere. Cioè... Non so se si sente che sto muovendo. Il movimento di testa è usato di colpire. Eh... Lancia... Lancia sì. Però ci mette davanti a caricare. Devo tipo fare così. Tu non saresti mai da prendere. Ma dopo. Eh vabbè. Uccideteli tutti. No. Tu no. Bell... Ah. Abbiamo il volo sì. Guarda. Il volo anche con lui mi sta bene. Eh... Allora. Visto che non voglio... Allora. Allora. Il little... Primstone. Non lo prendo. E poi dopo questo comunque... Contro come velocità d'attacco. C'ho 61 di attack speed. È lentissimo. Ah non so se prendo il little primstone o no. Ma contando quanto ci metto a caricare per sparare sì. Perché scommetto che... Sì. Eh. Two of diamonds. Ok. Two of diamonds. Sì. Anch'io lo vedo che lo prendono tutti perché è un brainstorm. Ma non fa danno. E poi funziona come i minion di... Di Lilith. Cioè devi stare... Mal posizionato diciamo per... Per colpire. Eh lo shopping. Sì in effetti. Guarda. Per l'altro mi credo più veloce con questo. E l'altro non lo uso. Tanto vale avere una... Un attivo che mi dà una passiva utile. Eh in fondo al culo. Questo non c'è entrato no? Però posso passare sopra le cose quindi... Benvenga questo. Secondo me invece il dash che fa questa fare è sottovalutato perché... C'è altri nemici che non ti aspetti e ti shota lo shop. Ce l'ho già andato. C'è la keeper. No. Poi stiamo ci posso passare sopra. Ok. No grazie. No grazie anche a te. Ma guarda. Sai che... Tanto... L'altro non mi ricordo cosa fa. La red patch non mi colpiscono. L'ho detto. Non mi colpiscono. Stampiamoci queste parole in mente. E... No. No. Quello bianco è meglio perché lancia la... La pioggia di luce. Quella è... Quella è potente. Non c'è a caso forse quella. Non lancia come il... Il Crack the Sky. Però... Allora. Aspetta un secondo qua. Perché potrebbe... Non... No. Tu... Schifo. Dove funzionare? Sì. Pazzo. Beh. Facciamo giusto un attimo così. Ah non sono in un'esplosione. Sono in un'esplosione. Perché ho paura? Quella era la vita... Era tutta la vita di quel monstro eh. Non è vero. Mannaggia te che salti. Mannaggia te. Sì. Diciamo che ci mettono 40 anni a uccidere chiunque. Però muoiono. Vabbè. Mi sta bene che ha funzionato. Eh. Aspetta va. No. No. Ah maledizione. È andato un buon motivo. Non mi trovo a usare lui. Perché? Ehi. Dove mettermi anche qua in mezzo a sparare. Beh è buono per questo. Ti metti qua in mezzo. Con lui. Appena ci riesci a entrare. Fai girare l'anima. E... Negozio. C'è una chiave sola. Però aspetta un secondo. Oh. Joker. Eh. Sì. Se arrivo addosso a lui. È la fine. Joker aspetta anche questo un attimo. Allora. Qua. Ecco. Perfetto. Joker. Eh ma sono qua. Eh non sono nella bo... Non c'è più tempo per la boss rush. Ah. Ta 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 ta. Aspetta. Uno è il negozio. Uno. Doppio attivo. Doppio attivo. Vabbè visto che è scontato. Ah già sono anche restock. Sì. Vabbè. Sì. Posso fare una cosa. Con questo. Joker. Come funziona con lui? Non funziona. Ok. Basta così. Mi va bene. Adesso c'è quello che intendevo tra l'altro. Come prendo... Che oggetti di merda. Oh non posso più usare. Però. The Soul. E quelli devono cagare. Allora. Sackboy. Questo. Cioè. Che schifo. Eh. Questo ricarica. Questo lo prendo così. Quello lì non ha. Dove essere utilizzabile. Blè. Mamma mega. Perché mi fai fare un palo facile? Cazzo. Però dovrei abbandonare il coso lì. No. Questo sì. Dopo pure la duplex. Ah. C'è. Sì. E... Te mi piaci. King Baby. Ok. Beh. Ho fatto tutto. Adesso un D6. Qualcissiasi cosa sarebbe molto gradita qui. Sì. C'ho chiavi. Sì. C'ho chiavi. Ho tante chiavi. Tante chiavi. Tanti lucky penny. Tante cose belle. Eh. Beh. Me ne faccio in fretta. Sì. Magari. Per la partita con lui sarebbe fare. Sarebbe proprio easy win. Per qualsiasi cosa. Ostia. Scusa. questo. Allora. Questo. Come funziona con lui? Aspetta. Ah. Grazie. Beh. Aspetta. No. Ah. Ok. Sono solo un D6 perché. Ah. Funziona. Cioè. Funziona per il. Come caspita si chiamava la trasformazione. O mi viene in mente. Quella dei 3 minion. E se funziona di nuovo lo prendo. Eh. Allora lo prendo. Questo diciamo che è buono. Però. No. Vabbè. Me lo tengo. È un sacco carino. O devo ricordarmi che non volo più. Oh. Ciao tu. Conjoined. Eccolo. Oh merda. Eh. Ciao. Vieni qua. Vieni qua. E andiamocene via. No. Sono. Sono l'anima mia. E questo è anche il punto. Sei incatenato a lui. Non puoi schivare come vuoi. Io lo avrei schivato in un altro modo. Ma non potevo. Perché ho incatenato a sto bastardo. In culo. Di culo. I citesti. Non mi ricordo cosa fa questo. Oh. Però lo prendo con te. Così mi dai un arco infatti. E a me prendo un buon arco probabilmente. Ma. Ok. Il boss è qua. Eh. Riprenderlo sarebbe carino. Purtroppo non ho. Modo di farlo. A meno che. Non ci può essere la stanza segreta. Faccio una cosa. Giusto per provare. Tanto. Ormai la bossa non ci è andata. Potrei fare una cosa. Più intelligente in realtà. Vieni qua. Punta sulla stanza segreta. Eh. Sì. Ho dicendo un boom e potrei farlo. Però prima voglio fare una cosa. Allora. Stai andando tutti i cazzi. Di solito. Top. Perfetto. Ho fatto tutto lui. Eh. Adesso me lo dai. Sacco of Penny. Stronzo. Vabbè. Ok. Allora. Tu di qua. Tarot slot. No. Non funziona comunque. Doppio. Tarot slot. Non è male. Le piace tarot slot. Non pari di tarot slot. Two of spades. Two of spades. Un doppio di tower. Mamma mia. Allora. Prendiamo ancora oggetti. Perché faccio questo. Dove dovrà scoppiare comunque. Mamma mia. Mamma mia. Dov'è l'oggetto? È qua. Che schifo. Aspetta. Non so se prenderlo o no. Perché mi dà sette bombe. Comunque. Vabbè. Lo prendo. Dai. Prendiamo questo. Prendiamo questo. Non importa. Adesso le pillole. Non importa. Ma teme di strutturli tu. Eh. Ta patatata. Prendo questo. Poi prendo ancora questo. Non posso. Vabbè. Andiamo via. Eh. No. Ma cosa sto facendo con il remote control? Eh. Tu. Perché era qui. Eh. E quanto sei lento? Ok. Che po' ha gravato il mio brimstone? Piantala di spararmi. Eh. Cosa devo fare con lui? Ho fatto Satana e Quist. E qui. Tu dopo. Ah. Mancavi tu. Ah. Ma sì. Inizio a non sentire più niente in realtà. Le mie cuffie. Sentire il macello del brimstone. Di mamma che grida. Del lacrime laser che partono. Di esplosioni quando capitano. Allora. Mi sono messo un sacco bene. Eh. Ta 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 ta. Ta ta ta. Eh. Che paura. Mi sono spaventato tantissimo. Non dovevo. Ma non è andato bene. In tutto ciò mi manca ancora. Shot speed. Porca schiva. Eh. Certo. Tu. Allora vuoi alzare la testa. Ma devo alzare la testa o potante? Morite. La talpa di merda. Le odio le talpe. Ho paura a te. Di nuovo. Bravo. Ho paura di questa stanza. Lo ammetto candidamente. Ok. Sangue freddo. Ho capito. Però basta. Eh. Non esploro il voomb. No. Con lui non è una buona idea esplorare il voomb. Eh. Mi sono fatto beccare come un imbecille. Allora. Sintori o questo? Eh. Sono tutte e due buoni. in questo. Tanto per avere più danno, no? Quanto c'ha lui? 13 di danno! Ma congratulazioni. Devo cercare di non perdere quel cuore adesso. No. Curse of the unknown. Oh. Quanto avevo. Tra... Quattro born art, uno completamente vuoto. Non cambio. Raffanculo. E vabbè, ho capito, eh. Non c'è tutto accoglie. Ma dai. Adesso ne ho di meno. Un attimo di silenzio mi è servito qui. Qua. No, c'è la donation tra l'altro. Se proprio... Eh. Ho perso il buon art. Mannaggia. Vabbè. Intanto non ho più niente da fare con le monete. Donna. Però sono bassissimo tra l'altro. Oh, bombe ne ho. Ho andato un po' di luck tra l'altro. Buono. Buono così. Allora. Tasti. Vabbè, mi sto... Nel secondo, va. Ah, ho il detoro del cazzo a volte. Eeeh. Ah, è una cosa che ho aggiunto da poco. Praticamente se tu vuoi donare di continuo a un certo punto si velocizza. Ti metti attaccato alla macchinetta e continua a velocizzarsi. Più che dobbiamo avere delle cose più veloci. Sono nel mio angolino sicuro adesso. Talpe del cazzo. Ragni del cazzo. Tutto del cazzo. Tutto. Tutto. Adesso ti faccio vedere un trucchetto col cuore di mamma. The Forgotten. Appena ce l'arrivo. Santissimi numi! Ah, quanto posso scoprire con lui? E... Bacca puttana. Ah, tu non sei mica male. Tu non sei mica male. Eeeh, perché le due mi facendo sbagliare. Eeeh, vabbè. Però non so, perdo... No, perché sono andando da... Sono andando da... Oh, ce la faccio a dirlo da Isaac. Da cattedrale. Per la carità del cielo. Grazie. Grazie, Old The Door. Sì, ho fatto bene Old The Door. Ma, sono stati stardo, però. E' matemesis. Eeeh, no. E' il TAP. Devo usare matemesis. Adesso dovrei avere quattro cuori. Presumo. Non ne ho idea. L'altro cielo, le palle dei nemici che non sono questi, anche. E... Ok. Potrò fare un'altra cosa. Cioè, qua volendo ti metti nel primo... E ti muovi così. Non ci ho pensato, però puoi farlo. Qua potrei anche non starci, ma... Sì, ma quello. Potrò a caso metti dopo qualcosa di utile la stanza, te lo perdi. Non... Non è molto buono. Lino! No. Giustamente, tra l'altro, poi... Una cosa che sarebbe... Però che ne... Giustamente... L'hanno fatta. Posta. Questi... Ci hanno tanta di quella vita che se la sognano. Che ti boss se la sognano. Almeno vita quelli lì. Hanno meno vita dei nemici rossi. Mannaggia. Ma la faccuore. Piano. Tutto a posto. Non ho subito danni. Ma basta, è mater... Grazie, ma basta. Allora. Questo è il trucco. Non spari, un imbecille. Perché non inizia a sparare i Brimson? Tu hai vinto. Non inizia a sparare i Brimson. Ti muovi, perché se no ti becca. Non ho subito danni con lui. L'hematemesis. Proprio se questo lo rifaccio. Riprendo l'hematemesis. E me ne vado su da Isaac. Giusto? Sì. Continuo a dimenticare che devo andare da Isaac. Su. Superman! Ok, non ho più cuore con lui. Cazzo. Bella! Grazie! Grazie della moschina incantata. Mi serviva. Wow. Ciao. Certe volte ti viene il panico. Poi... Sì, sì. Tutto lo metti nel punto da cui parla. Cioè... È un po' complicato lì perché... Devi piazzarti... Nel punto in cui... Spara. Ecco. Devi piazzarlo nel punto in cui spara. Però ti puoi mettere, giustamente. Ti puoi muovere... Per evitarli. Non so come ho beccato il secondo ma l'ho beccato. Anche da Isaac. E' un po' una cosa che tu ti stingaci qua. Non ti tinge lato lui così però. Una gandellata. Lo sposti a fanculo. Cioè... Ci devono farti peccati come un imbecille. Brutto posto! E via! Quando poi ci... Diciamo che quando ti fai tutti questi piani ti ricordi come funziona. Impari come funziona. E' tutto a posto. Slip e drip. Non so cosa faccia. E qua. Tac. Tanto già spavo una volta ogni morte dei papa. Mamma mia i Flintstones! Porca... Muove la stanza! Porcazza! E anche con... Questo no! Questo muo... Questo... Con lui... Lo attira l'osso da fermo. Sono morto se prendo quel affare. Ciao tu! Ahahahah! Aiuto! Ma vaffanculo! Ahahahah! Ma vantatemi la mu... Mamma mia li ho sm... Non li ho smezzati. Però li ho fatto male! Ma... Mamma mia! E questo non è comunque buono per fare delirium, eh? Cosa date voi di bello? Vabbè, tu... Non mi fai schifo. Anzi. Tu, vabbè, ti prendo bene che sì. C'è un boss! Io non l'ho visto! Oh, mamma mia! Dove un... No, cazzavo. Calmino! Oh! Ma che bello! Ho sbagliato. Non mi importa. BOOM! Porca vacca! Aia! Ben trip! Ma veramente ben trip! C'hai la mamma puttana, sì! Dai, tu scoppia! Tu prendi! Lui dovrebbe velocizzare, però, ad esempio. Cioè, in realtà... Sì, in realtà sì. Vai! Prendi tu monete! No! Ma muori! Ma muori, anche... Bravo! Stavo solo qui... Partissero gli alleati. No, qua lo esploro tutto. Già che sono messo così... Sì, con sta course, magari un po' meno. 48 ore... Energy. Ecco, qua! Non importa quando andorai, sempre stronzi nell'anima restano. Secondo che si ricarica l'auto-attacco. Cioè, era talmente grande che becco metà stanza con questo. Tu... Ma io va lì. Oh! Crack the sky! Dicevamo. Tengo Crack the sky. Di te, non avevo l'enems, nah. Che cosa devo fare prima? No! Ma non conta come esplosione? No! Muovo la stanza, ma non conta come esplosione. Peccato! Leo? Ah, va bene. È bellissimo! È un personaggio bellissimo! Lo mio aspetto, dico. Cazzo! Va bene. Eh, però... E per l'altro sto... Allora, sto esplorando... Mamma mia, l'ho demolita. Sto esplorando perché se trovo la dead ski, posso andare anche da mega satana. Ho un double active, sì. Sì. Stavo pensando se potevano servirmi qualcosa a quello, ma... No. Boh. Aiuto. Prima di andare da... Da Isaac, comunque questo lo prendo. Prima di andare da... Ti dà Isaac, poi da... Scusate, buco. Sapore. Non avevo voglia. La merda che sei tu! Tu! Ah, tra l'altro... Gli scrigni... Con i chiodi, poi col piroli che non ti fanno danno. È utilissimo. Vai! Eh, tu non mi servis a nulla, ma non lo uso. Però divento bookworm. Buono. Divento bookworm! Cioè, ogni tanto sparo praticamente sei ossa. Il due di luck neanche è così tanto spesso, è così poco spesso. Vabbè, via! Peccato, mi sa che niente... Bega satana. Ratchet del... Culo! No. Eh, però dovrò lasciarlo prendere la bumbo, sono stupido. Non ti dico di vedere la bumbo ogni tanto. No, dov'è adesso? Ah, non mi ricordo più, va bene, non importa. Non lo prendo. Semplicemente. Eh, sarà lassù. Sta cazzo di maledizione. Tutto la... Tutto l'attivo ha fatto e c'è dell'Irium. Vabbè, ci dobbiamo poi tanto. Non ce la faccio a fare dell'Irium, comunque. Giubo, nasa per ora in the basement. Something wicked this way comes. Cioè? Non so cosa faccia la seconda cosa che mi ha detto. Speed up, vabbè. Lo tengo. Me lo tengo. Sì. Me lo tengo, certo. Allora. No. Beh, non è solo quella bianca. Ok. Solo quella bianca, ho detto. Boom. Tutti champion. Ma che cazzo me ne frega a me. Ah, no, sono... Mi devo ricordare che sono stompi, occhio. Ah, no, non mi devo ricordare che sono stompi. Sono sempre uno alle esplosioni. Ecco. Una condizione di vittoria contro l'Irium è sempre uno alle esplosioni. Bravo, poi dentro lo tu. Perché tra tutti i danni che ti fa l'Irium ci sono anche quelli esplosivi. Si dice immunizzati da vaffanculo. Eh, non posso mai cambiare adesso il pesaglio dell'altro. C'è un boss. Aiuto! Non avevo visto la mosca. Se adesso cambio in... Nel bambino... Vaffanculo. No, mio. Se adesso cambiassi nel bambino morirebbe... Cos'è questo? Ah, questo quello diventa... Che diventa una merda di... Bastardo nel culo diventa. Ma i boss che non conosco mi... Cosa c'è lì? Dai, dammi un crowded space. Un crowded space. Un crowded space. Porca troia! Cioè, questo... Non è un per il gioco, è peggio. Normale, poi. Ma fottetevi tutto. Quanti. Ecco, se ne vediamo delle pointy fly. Tutto ciò. Non sono immunare veleno, non sono immunare veleno. Eh, vaffanculo. Oh! Cosa succede? Ma questo potrebbe non essere... Vabbè, vaffanculo. Forsaken. Ciao, defors... FANculo! Non posso prendere oggetti. Non posso prendere oggetti. Ma lo fai ancora stesso? Ah! Ahahahah! 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 Vabbè, come funziona con... No! No, come funziona con... Con 32 di danno! Va bene! Ma porca... Ah già, ci sei tu. No! No, l'ho sbagliato io. Eh, l'ho sbagliato io. Ho preso una cosa che non dovevo prendere. Adesso mi confonderà. Ok. Voglio... Da rimoni di quel power, adderzo, putanto! Voglio di... Un po' di shot speed. Che considera che... Io l'ho preso quello, ma poteva benissimo essere... Madonna, quante mosche. Poteva benissimo essere le... Come si chiama? Soy milk. Non è una buona idea. Per un cazzo è una buona idea. Vabbè, eh... Prendeteli tu... O me li prendo io. Ma è basta, Bad Trip! Puttana schifo! No, perché c'è il cosino. Magari mi lascia degli oggetti lui, diversamente. Vabbè. Posso mollare Bad Trip, per favore? Che mai mi sbaglio a usarlo. Tra l'altro resta tu, per carità del cielo. Ecco, inizio a non ricordare più quelli sono i tasti. Corsiamo del... Di Mask of Finf... Perché tanto Mask of Finf funziona... Se il beccolo davanti... Funziona lo stesso. Frega niente! Frega nulla! Ah, la c***a che ho. Io prendo e basta. Vabbè, prendo e basta. Ci sono... Qua ci sono ben... No, due. Penso che mi ricordo che ci sono tre Bad Trip, qui. Va bene. No, mio. Come le Mon Party? Va bene. Eh, sì. Oh, un cuoricino per l'altro. No, sia mai. È un peccato solo che non resti come se fosse dopo... Cosa c'è? Che è come se resti... Ma non mi ricordo, non mi viene da parlare. Dopo la cattedrale, dopo la cesta. Che tutti gli Scrimp danno oggetti. Quello sarebbe veramente... Sarebbe rotto. Non so neanche cosa sta uccidendo. Questo è un Blackheart. Non ho neanche visto il Blackheart. No. No. Boss Brain, dai. No, ma cosa ho tenuto? Tu, sei una... Poi come si appazzonasse la resa di cappi. Eh, sì. Stando molto attento... Sento... Eh... Guarda, il minimo veleno! Eh, già. Che posso prendere tanto... Sempre immune... Immune alle esplosioni sono. 48 hour energy. 48 hour energy. No. Tutto, 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 tutto! Pure questo! 48 hour energy. Arandellate sui dentini! Tu, cosa c'è qua? Ah, guai e merda! Capisco, però! Non so se c'è un limite alle mosche, ma non mi frega niente. Mi fai fastidio. Speed down. Guarda, quasi! Sto andando un po' troppo veloce. Prendetelo! Quasi preso. Questa... Ah, questo! Cosa fai? Mi aumenta la range? Mi aumenta la range e... Non mi serve. Cioè, tanto più stato un medical code, va? Bella, la, 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 la! Sì, però... Puoi anche arrivare a una fine. Pazzo! Ecco, probabilmente una pillola che mi potrebbe tornare tanto utile è Matemesis. E' anche la lemon party. Oh! Cosa fai tu? Solo per vedere. Non lo vedo nemmeno cosa fai tu. No, no, non serve. A questo punto prendo Fischer. No, Fischer mi devono colpire. Va bene. Potrebbe essere DeLium? No, DeLamb. Ciao DeLamb. Oddio DeLamb! C'era DeLamb qui una volta! Ok. Dai. Abbiamo avviso, abbiamo scherzato, ma devo andarci da sto cazzo, maledetto ti. Infested! No. Ciao Isaac! Addio Isaac! Faccio l'interdito economico? Io non dovrei prendere questi oggetti, eh! Prendo quello che mi rovina la run e la fine. Adversary! Vabbè. Tanto. Sono pieno di attivi! Non me ne faccio di un cazzo! Dov'è il boss? Dov'è DeLirium? Sarà là sopra, DeLirium? Toh! Frega niente di anche... Potrebbe esserci... ...il baby figo. Quello lì che blocca i proiettili e poi fa... ...l'effetto del morello nomicon. Del necronomicon. Tu che sei? Qui è DeSae. Facciamo stare. Allora... Aha... Boom! PORCA TROIA! Oh, ah! Beh, prendo tanto. Tanto quello è full. Non andrà mai addosso a Delirium perchè è troppo lento. E io potrei ancora morirci da Delirium, non so ne succede. DELIRIUM! CIAO! Non so cosa sta succedendo, ma... Mi è fatto male, finora. Oh, ho visto una cosa molto interessante. Molto, molto interessante. Molto, molto. OCATRO! Bastardo in culo! DELIRIUM con THE FORGOTTEN! Puttana! E diventato un gioco a un certo punto era anche normale farcela, per carità. Ho sbloccato una cosa molto figa, vedo la sotto. Pesca la manziato! Head skill, eh! Scusa, ma perchè faccio un rumore di vasi? Sono fatto solo ora. Va bene. Delirium è un bug. Sappiamo tutti che Delirium è un bug. Scusa! Eh, se la ride lui! Carino! Questa è bella da vedere. È triste ma è bella da vedere. Perchè vuol dire che hai battuto delirium! Con chiunque! Non solo con THE FORGOTTEN! Ma con THE FORGOTTEN! Ma con THE FORGOTTEN! Non solo con THE FORGOTTEN! Sì, il buono finale! Sì, il buono finale! Sì, il buono finale! C'era una storia che avevo letto online, forse era un video di YouTube, che praticamente facevano vedere che The Lost era il padre di Isaac, c'era stato lui a buttare la bibbia in testa alla madre, se ne va, ciao, e aveva messo a Isaac di scappare ma di rifare i stessi errori a quel punto si era disperato, via, The Book of the Dead, non ho idea di cosa faccia, allora, cosa manca da fare con lui, Mega Satana e le Rush, le Rush con lui non è che sono così facili, però delirium, cazzo delirium, vabbè, a sto punto, a sto punto cosa faccio, gridire con Isaac, visto che tra neanche mezz'ora chiudo in realtà, cioè in realtà posso andare avanti ancora un pochino in teoria però, un attivo credo che mi c'è un'altra stanza, minchia, quindi con Mega Satana, eh, però, cioè, può essere buono, cosa ho preso, non ho neanche visto, ho preso e basta, Jesus Juice, eh, oh, con Jesus Juice sarebbe meglio, eh, ah, ciao, beh, buona cena, quindi ci vediamo poi un'altra volta o vediamo poi, eh, cosa stavo dicendo, non vado più, ho detto cose, la chiave è scontata? Sì, curati, eh, cioè, eh, cosa stavo dicendo, Mega Satana diventa un amico tuo, vabbè, ci sta, ci sta molto di più magari in una, in una Rush, in una Rush, sì, cioè, in una Grid come sono adesso, però, cioè, Mega Satana non ha alleati, quando è attivo, o ne ha, ma sono inutili, e non c'è fra in tempo, se si è ragazzata in teoria, fa spawnare i suoi alleati, con lui attivo, perché quando spawna gli amicetti, lì, e devi morire, quando gli spawna gli amichetti, e sempre, muoi, è già al punto, che non c'è lui, cioè, che lui si mette indietro nella stanza e non si può essere colpito, non è molto buono farselo amico, ok, devo ammettere che riuscire a fare Mega Satana, ma un po' ha incoglionito il parlato, un po' tutto, ma ha incoglionito, e dai, e porco me, la mia volontà di non prendere le monete è sempre più alta della mia volontà di sopravvivere su sto cazzo di, ok, per tanto questa devo prenderla comunque, mamma mega non funziona, ok, non so cosa fare con te, oh, proptosis, carina proptosis, dai, prendo tutto, tanto ormai, anche se trovassi, mi trovassi ieri, non la userei già qui, in questa stanza qui, bastardo, il salto lungo, ok, Oh Ragman 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 Mwoii Sì, ma prima prendo te. Allora, sto prima prendo te. E guardiamo Spirit of the Night. Eeeh, sì. Così ho pure le lacrime spettrali. Sono già a posto a piano piano con tutto quello che posso voler attraversare. Chiave, non posso prenderla. E quindi me ne vado. E qua, dai, dai, dai. Una moneta, dai, una moneta, dai, una moneta, una monetina. Ho il volo, le lacrime spettrali, le lacrime penetranti danno altissimo. Sono già a posto più o meno, diciamo. Perché devo ancora prendere... Non dico tanto... Eh, Shot Spill sì. Tira sui Shot Spill sì. Ma mi serve resistenza adesso. Ah, magari c'è quello lì che prenderò volentieri, probabilmente. Però non ci sono chiavi scontate. Christian. Chiaan. Non mi ha più da un riso, papi. De, 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 de. Vi da, moi. Beh. Il problema di adesso è che non posso vedermela contro le bombe. Il bombe dovrebbe avere un corpo fisico per quanto mi riguarda. Per poterli sparare con tutto. Perché così non è giusto. Allora. Qua. Sticky bombe. Ok. Allora. A me il buon arte non dispiace. Però è uno solo. Non ne vale troppo la pena in realtà. Quindi. 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 Tanto tanto mi diziamo perché non me lo tengo questo. Buongiorno. Sì. Qua. Una moneta. Va bene. Me la faccio andare bene. Che ho scontato tra l'altro? Belle. E allora. Bomba. Hello. Subito. Range. Mi serve range? Sì. Però non lo prendo così. Non sono uno stronzo e non lo prendo così. Eee. Tu. Mi piaci tu. Oh. Questo. È un perché sei uno stronzo. Un bel personaggio. Un bel personaggio. Così. E la minchia. Tanta minchia. Ok. Qua abbiamo... Roba. Non mi piace niente. C'è questo che è giusto un pezzo di gapi ma non mi piace proprio come item. Qua ancora meno tutto Che cavolo Che schifo Ah va bene Oggetti che potevo prendere qua Eh tu non sei male Ma non Se non spreco se ti tengo il D6 No 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 Prendo dopo Prendo dopo Prendo dopo Però aspetta Ci sono ancora Quanti piani Ma non sei più scontata Fa niente Volevo prendere le chiavi Per andare ai piani dopo Così Avevo tutto a posto Ma non fa niente Vado così Ecco ora mi serve una chiave Intanto E Potete Stare Ma volevo vedere Benissimo E puttali via I getti non li prendo qua Quindi aspetta Al prossimo piano Questo Questo Watch your back Ah Doveve Sì Che schifo che fate Cosa Non è un boss Non è un boss Mamma mia Solo per vedere Se mi dava No volevo dire Se mi dava una cosa da due Se mi dava una cosa da due Li prendevo entrambi Ma così non ne vale la pena Eeeh Sono pieno di soldi Speriamo più Dopo non avere Quella maledizione schifosa E via La 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 Si Sì per più motivi Il primo è Il primo che tu fai schifo Potrei presistire una chiave scontata No, non c'è una chiave scontata Porca Vabbè Vediamo se quella vita ha una chiave Questo Questo ne vale abbastanza la pena in realtà BFF Non ho Minion Tears up Vabbè Shanking Mush Sì No, non mi servi Tu Tu non fai schifo quantomeno La chiave La chiave La chiave La chiave Questo è Libra No, questo non è Libra Questo è Gemini Perfetto Mi bastava avere un Minion Potrei Via Via Fuori dai bali Eh Ho visto Come uno Mecille Ti sarebbe Ti sarebbe Ludo Tu lì Non serve un Caspita Ti sei Ancora un po' Per favore Eh Ma tu lì Che ci fai Muori Allora Di sti item Non me ne prendereai nessuno Questo si Perché non so cosa fa Puttana E va Bluat Bluat Di merda Bluat Di merda Bluat Del cazzo Schifoso Bastardo Eh tu un po' Meno Pensavo Spendereai del culo Così È veramente La cosa Più brutta Mamma mia Però E poi Dai Però Ma sono in No Non ho capito Non me ne ho contatti male Pensavo fossero due coppie Eh Allora Quello lì Come dicevo Lo prendo Non so cosa faccio Semplicemente Andrì via E Questo Non è male questo In realtà Però non posso prenderlo tanto Quindi Questo in realtà È molto forte Ma molto Molto forte Dai Due monetine Due monetine Manco una Eh vabbè Potremmo andare In una stanza Del sacri desi In una stanza Perché qui c'è Una stanza Maledetta Ma niente Ah C'è un familiare orbitale Non so cosa faccia Vabbè Scusa quello che mi rigenerai Pochi hp che ho Oh Oggetti scontati Oh ma che belli che sono Gli oggetti scontati E Tu si Che belli che sono Perché me li prendo tutti Tra l'altro No Però mi devo prendere una chiave Perché se questo fa cagare Come oggetto Per phaser Però Sì No Non posso Non posso tenerti Oddio In realtà sì Sì No È troppo più forte È una pilva Quando fada qualcosa Le esplosioni Eh L'ulpe l'ha detto Ma è una pilva mia Ma va Quello non l'avevo visto Shottate il mondo Piccoli miei Voglio vedere il mondo bruciare Grazie a voi Carta Grazie Un altro E Little Horn Sì E tu non funzioni Tanto con le monete Che droppa la grid mod Credo Rischio No Ma Funzionasse con queste monete Sarebbe Così potente Come item Ma no Sto cazzo Va bene Gli oggetti scontati Ma fino a un certo limite Prendo tutto il blue cap Che mi piace Perché mi dimicione range Mi se ne fai Ho visto Sinto Iscontato Ho visto Sinto Iscontato Oh I can see Che Poi Poi Dovete Tare Nostante Sacrificio Mi sa Vé Dopo Ok, l'attivo mai più. La maschera, non avevo visto la maschera. Mannaggia, si è ammettizzata con il Keeper. Ma questo non l'ho visto perché sono stupido. Problemi. 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 Dove prendere le resistenze in realtà. Ma è troppo invitante. Ecco le mie resistenze. 20,91 di danno. Una batteria non farebbe schifo. Quella di Angra non mi serve. Eh, ovviamente. Oh, però... Mamma mia che culo. No, aspetto a prenderti. Posso ancora tentare un paio di cose. Tu. Beh, basta. Ok. Ok, basta. Devo solo vincere tanto. Tu vieni con me. E... Questa è tutta la resistenza che avrò contro... Mega Satana! Porca cattavaya! Ha ha ha! Di Mega Satana contro Ultra Grid. Lo sto dicendo. Dico che sono un coglione. Lucky Penny! D1! Non nemmeno che ti è Martio! Non nemmeno che ti è Martio! D1! D2! D2! D1! bastardo ma placenta funziona c'è oh dai c'è un vero stronzo da tanti attacchi una volta e basta per la cazza ok ora posso attivare un'altra volta no quando mi piace questa boss fight fa bene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.